ciao a tutti benvenuti a questo momento di ascolto della parola del signore in questo mercoledì santo il vangelo di oggi è tratto da matteo 26 capitolo 26 versetti dal 14 al 25 parleremo del tradimento di giuda dell'annuncio del tradimento di giuda e dei preparativi del pasto pasquale così lo dice la bibbia di gerusalemme allora chiediamo al signore allo spirito santo in questa preparazione verso la pasqua e la pasqua che viene al nostro incontro il cristo è un incontro un incontro vuol dire che non necessariamente 11 solo sta andando verso l'altro no tutte e due si avvicinano noi ci prepariamo abbiamo il desiderio prepariamo ci prepariamo e il signore viene 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 attraverso il suo mistero pasquale nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen dal vangelo secondo matteo allora uno dei dodici chiamato giuda iscariota andò dai capi dei sacerdoti e disse quanto volete darmi perché io ve lo consegni e quelli li fissarono 30 monete d'argento da quel momento cercava locazione propizia per consegnarlo il primo giorno degli azimi i discepoli si avvicinarono a gesù e gli dissero dove voi che prepariamo per te perché tu possa mangiare la pasqua ed egli rispose andate in città da un tale ed itali il maestro dice il mio tempo è vicino farò la pasqua da te con i miei discepoli i discepoli fecero come aveva loro ordinato gesù e prepararono la pasqua venuta la sera si mise a tavola con i dodici mentre mangiavano disse in verità io vi dico uno di voi uno di voi mi tradirà ed essi profondamente rattristati cominciarono ciascuno a domandargli sono forse io signore e delle rispose colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà il filo dell'uomo se ne va come sta scritto di lui ma guai a quel uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito meglio per quel uomo se non fosse mai nato giuda il traditore disse rabbì sono forse io di rispose tu lo hai detto parola del signore o cristo è una parola che è sempre giuda al centro vabbè è sempre il signore al centro di tutte le parole ma è la parola oggi torniamo al tradimento di giuda e perché ci dobbiamo domandare perché la chiesa insiste in questi giorni a parlare di giuda ricordate lunedì parlavamo del profumo e giuda che c'era ieri proprio giovanni il tradimento di giuda oggi pure giuda quando consegna il signore per 30 monete d'argento perché bisogna conoscere chi siamo la nostra condizione per avvicinarci alla pasqua per desiderare veramente la pasqua ieri parlavamo di questa notte la notte del tradimento la notte di giuda oggi pure il signore dice venuta la sera quando noi siamo introdotti nella notte alla sera ecco venuta la sera bene il vangelo c'ha tante tante cose belle che dice il prezzo per il quale viene consegnato il signore e prezzo dei schiavi lo dice l'essodo nel capitolo 21 aspettate che lo cerco qui capitolo 21 32 misa scusatemi questa cosa io mi piace meglio leggere perché sennò invento le cose poi qualcuno può confrontarlo dice don felipe si inventa delle cose no ecco dice capitolo 21 essodo 21 capitolo 32 dice se il bue colpisce con la corn con le corn uno schiavo o una schiava si darà al suo padrone del denaro 30 cicli e il bue sarà lapidato pensate Cristo è venduto e consegnato per 30 monete d'argento il prezzo di uno schiavo di un somaro pensate pensate dobbiamo pensare se questo è pure il prezzo che noi le mettiamo a Cristo bisogna pensare anche questo qual è il valore veramente amiamo Cristo che non ha un prezzo più che altro è lui che ha pagato un prezzo per noi per riscatare l'umanità tutta l'umanità per riscatare noi per salvare noi lui ha pagato un prezzo e sai qua quanto è il valore di te quanto è il valore di me quanto ha pagato Cristo per noi il prezzo è stato il suo sangue il suo sangue questo è il prezzo invece noi miserabili 30 monete il prezzo di uno schiavo questo è l'amore questo è l'amore l'autore della vita venduto per 30 monete venduto come uno schiavo cioè come un servo infatti lui è il servo di Yahweh il servo del Signore colui del quale profetizza Isaia parlando del servo di Yahweh come un agnello portato al macello non si difende viene consegnato così come uno schiavo venduto appresso di schiavo bene questo per pensare qual è il valore di Cristo nella nostra vita e poi cerca il momento propizio cioè il kairos per consegnarlo questo è il kairos di Giuda il kairos del mondo il mondo che cerca il momento opportuno per uccidere Cristo per uccidere l'autore della vita per uccidere la famiglia per uccidere i bambini per l'aborto per l'eutanasia e eutanasia ecco per uccidere la famiglia però appare qui un'altra parola ingressa questo relato rompendo totalmente questo tradimento di Giuda e parla dei preparativi del pasto pasquale e parla del primo giorno degli azzimi sappiamo che il pane azzimo è un pane senza lievito allora il lievito è quello che gonfia il pane allora questo gonfiore questo gonfiore è il gonfiore del faraone il lievito del faraone la superbia la stoltezza il pensare il vivere come vivere senza Dio l'autonomia è quella tentazione di Adamo e Deva di essere come Dio chiediamo al Signore di liberarci di questo lievito e tanti di voi avete sentito questa parola in questi giorni attenti entriamo così umili è il pane della fretta è il pane che il popolo israele prende per uscire dalla schiavitù è il pane della schiavitù è il pane della fretta i azzimi e allora proprio nel giorno della Pasqua che è il primo giorno degli azzimi i discepoli domandano questo al Signore dove vuoi che prepariamo per te la Pasqua la stessa domanda gli facciamo al Signore dove vuoi Signore certo che il Signore vuole fare Pasqua nella nostra vita questo è il posto opportuno è il tempio dello Spirito Santo la nostra vita è lì che dobbiamo preparare la Pasqua ecco perché bisogna avvicinarsi ai sacramenti in questi giorni alla confessione ascoltare la parola del Signore stare attenti perché solo così possiamo rinunciare a questo lievito il lievito del Faraone e restare asini senza lieviti allora questo è il desiderio del Signore di che noi prepariamo la Pasqua nel nostro cuore allora perché perché il Signore ha detto il mio tempo è vicino farò la Pasqua da un tale questo tale sei tu sono io il Signore dice andate in un città da un tale questo tale puoi essere tu puoi essere te posso essere io allora venuta la sera si è messa a tavola con i dodici questa venuta la sera lo dicevo prima è l'introduzione alla notte l'introduzione alla notte è qui che il Signore dice rivela questo tradimento e tutti domandano al Signore sarò forse io Signore è così tutti dice sono forse io Signore invece Giuda dirà Rabbì sono forse io perché Giuda non lo riconosce come Signore lo riconosce come maestro Rabbì maestro della vita invece Cristo è la vita e allora il Signore la risponde tu lo hai detto tu l'hai detto allora chiediamo chiediamo all'autore della vita che ci donna la grazia di riconoscerlo come il Signore il Kirios colui che ci dona la vita prepariamoci per la Pasqua nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen bene fratelli vi invito a tutti a lasciare le vostre preghiere qui sotto nella zona dei commenti prepariamoci per la Pasqua preghiamo gli uni per gli altri lasciatevi sempre un like mi piace iscriviti al canale e attiva le notifiche e condividi il link di questa pubblicazione di questo video così ci aiuti a evangelizzare auguro a tutti un felice mercoledì santo un abbraccio grazie a tutti